Ben ritrovati amiche e amici di Bianconera News, Juventus Udinese è il posticipo della 24esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 che si giocherà appunto domani sera all'Allianz Stadium di Torino. Oggi ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri torinesi che vogliono ripartire dopo la sconfitta rimediata nel derby d'Italia contro l'Inter. Per lo scudetto è ormai un discorso quasi archiviato con i nerazzurri che a parità di partite disputate oggi hanno sette punti in più rispetto alla vecchia signora e viaggiano spediti verso il titolo. Però Massimiliano Allegri ha dichiarato che l'obiettivo della Juve sarà quello intanto di riportarsi a meno 4 in attesa del recupero tra i nerazzurri milanesi e l'Atalanta e allungare soprattutto ancora sul quinto posto. Ricordiamo, Massimiliano Allegri l'ha rimbadito per l'ennesima volta, l'obiettivo di questa stagione della Juventus è quello di consolidare una delle prime quattro posizioni per ritornare in Champions League. Una comunicazione per la quale Massimiliano Allegri viene spesso attaccato ma che è la stessa, identica, della proprietà, cioè di John Elkan e del football director Cristiano Giuntoli. La Juventus in questo momento è seconda, ha la possibilità di consolidare, ribadiamo, una posizione importante in classifica e lo dovrà fare facendo i conti anche con diverse assenze. Abbiamo già detto più volte dell'indisponibilità di Pogba che è ancora in attesa di giudizio per la questione doping, è assente Fagioli ed è anche squalificato Capitano Danilo che è stato ammonito contro l'Inter. Rientra invece dalla squalifica Milik che con ogni probabilità giocherà titolare in avanti, visto che non sarà a disposizione Dujan Vlaovic che non è disponibile così come Moise Ken e Perin, il secondo portiere. Quindi, andando un po' a fare il quadro della probabile formazione bianconera, Massimiliano Allegri dovrebbe schierarsi con Czesny tra i pali, in difesa Gatti e Bremer sono sicuri del posto, mentre sul centro-sinistra, al posto di Capitano Danilo, il favorito è Alexandro. Centrocampo, Allegri ha subito chiarito che il nuovo arrivo al Caraz non giocherà dal primo minuto, quindi non ci dovrebbero essere grandi scoinvolgimenti. Giocheranno a destra Cambiaso e a sinistra Kostic, interni McKennie e Rabiot e in cabina di regia Manuel Locatelli. Davanti, sicuro del posto, quasi Milik, mentre l'altra maglia se la giocano Chiesa e Ildiz. Massimiliano Allegri su questo è rimasto molto vago, ma diciamo che se Chiesa è pienamente recuperato, dopo diverse partite da sostituto, tra virgolette, di Ildiz, ha buone chance di partire dal primo minuto. L'Udinese, invece, si schiererà con un modulo quasi speculare, un 3-5-1-1, nel quale non ci sarà l'ex Pereira, che è squalificato e che nell'ultima partita ha agito da quinto di destra. Cioffi, allenatore dei Friulani, non potrà contare nemmeno su Biol, su Ebosse e su De Olofeu. Davanti il terminale offensivo sarà, con ogni probabilità, Lucca, un calciatore che la Juventus ha seguito anche per diverso tempo, un attaccante giovane, che ha già avuto un'esperienza non proprio fortunatissima all'estero e che è il cosiddetto centro boa che fa quasi da reparto a sé. Come giocherà l'Udinese? L'Udinese è una squadra che punta a fare molta densità, soprattutto nella propria metà campo, per poi ripartire in velocità con le verticalizzazioni, magari proprio per lo stesso Lucca, e per Tobin che cercherà di mettersi tra le linee per dare fastidio alla fase difensiva della Juve. Quindi servirà una partita di ritmo da parte dei bianconeri torinesi che dovranno cercare di velocizzare il più possibile la manovra e non consentire ai friulani di piazzarsi appunto e non concedere spazi, soprattutto in ampiezza con la linea di centrocampo a 5. Non sarà, almeno sulla carta, una partita semplicissima, però questa Juventus, dopo, ribadiamo, la sconfitta del derby d'Italia, deve ripartire, deve farlo con intensità. Se quello di Milano è stato solo un incidente di percorso, quale migliore occasione per dimostrarlo? appunto contro l'Udinese domani sera. Vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima analisi pre-partita sempre su Bianconera News. Alla prossima!